Lo sapevi che bastano 4 piccoli cesti per migliorare la vita dentro casa? 1. Circa un terzo dei consumi energetici è dovuto al riscaldamento degli edifici. In inverno metti una maglia in più e abbassare un grado riscaldamento. Vedrai benefici sulla bolletta. 2. Metti le piante in casa che assorbono l'anidride carbonica e vi lasciano un sacco di ossigeno. Balla c'è il tetto. 3. 4. Quando usi un elettrodomestico come la lavatrice risparmi al 60% in bolletta. Cioè nelle ruove serali. Ah, dimenticavo. 4. Tieni il cervello sempre acceso e la luce solo conserva. Sì. 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 Sì.